Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, doccia d'esperienza per me, questa dovrebbe essere l'ultima puntata in teoria Eh no, devo ucciderlo Ender Dragon, ricordate? Ah sì, boh, Ender Dragon, ci mandiamo un attimo, lo uccidiamo Comunque abbiamo fatto un po' di Scenescoob, perché per caso abbiamo un po' di Scenescoob, vi ricordate che l'avevamo promesso E uno per l'altro, vi ricordate che ha una cosa ricorrente, no? E quindi a colpire... Ma la brava da sopra? Eh, io direi, come ho fatto qui, guarda, questo, questo, questo e questo, ci manca questo lato così, tipo AU Ok, io faccio fuori questo adesso, pronto? Vai, lo apri tu? Sì, dai Ok, attenzione, lo apri Rinnegan, io mi allontano già bene, bovam, appena compito l'impresa, bovam Cioè, guarda in alto sempre, non si sa mai che c'era qualcosa in faccia Che cosa dovrebbe essere sta cosa? Eh? Sotto c'è qualcosa? Mmmmm, no? Però tu hai compiuto l'impresa, bovam Rompi, 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 rompi Niente, è tutto pietrisco Mmmmm... Cos'hai? Cos'è che non ti ispira? Dici che c'è qualcosa sotto o no? Mmmmm... Secondo me è una cacata Devo andare ad accraftarmi il coso? Ah, hanno invertito i blocchi Eh? Ah, ok, ok, hanno invertito i blocchi Ho letto, ho letto, ho letto bene Allora, adesso rompo questo Io ho craftato l'affare quello che dà fortuna, in teoria Non so se funziona proprio l'Iceano Scuba Io rompo questo qua, sempre in basso a sinistra Ok, dai, vai Eeeh, rotto Ah! Inse... Ma come Inception? Ma l'avevo... Allora, adesso... Eccolo, guarda che sta creando Guarda che sta creando Eh, non lo vedo, non lo vedo Non lo vedo Vieni su, vieni su, vieni su Ma l'avevamo già fatto Inception? Eh, vabbè Eccolo là Eccolo là, ragazzi Vi ricordate che era già uscita una cosa del genere? Guarda che figata Guarda i diamanti, guarda i diamanti Sto bene che sta creando Sì Guarda di cosa c'è quello? Quello è l'esmeraldo e... Questo è l'esmeraldo, sì La c'è a maestrite, la c'è a pietra madre Quindi adesso di sotto c'è il buco gigante, giusto? Esatto Questa quasi per finire la serie mi ci butto dentro io Ok, aspetta un attimo Attenzione Va giù Taylor Attenzione Eh, sì, ferma Ah, aspetta, aspetta che c'è anche una scoop qua Guarda che bello Guarda Lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo qualcosa Con questo Eeeh, rotto Ah, che cazzo è successo? Qual'è il problema? È venuto fuori un'orda di... Polipi del cazzo Comunque non importa, non importa Se ne andiamo Niente, era andato sotto nel buco gigante Vedete che questo qui non funziona con gli shans cube grossi? Mmmmm Sono api Api del piffero Sposta bene Ok, uccise Ah, anche lo uccido io Aspetta Ok, oh Questa è... Stai che mi bruci la vita poi Tocca a te Perché sti qua sotto i vicini? Va bene Allora abbiamo letto Blocco da quattro Vado in quello centrale, basso? Questo? Sì, questo qui centrale Questo? Sei pronto? Dove vai? Ah, questo qui, ok? Vai Dove? Ah, stai già dentro? Sì, ma... Non ti ho chiuso io, eh? Aspetta che ti apro la vita qua Non serve, mi apro io Ok, non c'è niente? Solo carbone? Solo carbone Che shi Buoh, andiamo ad un'altra parte Questo qua, via Tocca a me, tocca a me Aspetta che ci sono i cosi qui Ci sono le brutte bestie Ok, e tu hai rotto quello centrale Adesso loco quello laterale di qua Esatto E rotto Ah, ah, ok, ok, ok Altre colonne con tantissimo materiale Bene, bene, bene E poi mancano... Ecco, là ce n'è un altro Vieni qua Qua, qua, qua Dove sono io, vieni Ah, boh, li hai venuti da dal fiume, tu? Sì, facciamo prima questo Ok, rompi tu? Ma sì, dai Vai, rompilo tu, via Quindi non era quello centrale? No, era... Non questo, questo Pronto? Vai Ecco Ti spara TNT questo Fa TNT e palla di fuoco Ma ora abbiamo visto tutto, giusto? In teoria abbiamo visto tutto Sì, è quello che ha preso a smeranto o qual è? No, più che altro vediamo... Se cambiamo lato Vediamo sulla faccia da 5 Sulla faccia da? 5 Ok Quindi qua c'è il numero 5 Esatto Buon prova Tu fino adesso abbiamo usato che faccia noi? 4 Sicuro? Solo 4? Vabbè, usa quella da 5 allora, dai Allora adesso basso qua, eh Ecco Cosa è successo? Oh la madonna, è vero Cambia anche di... Che figata No, che figata un cazzo Sono danno istantaneo Oddio, guarda! Che figata Benissimo, bellissimo effetto Sì, danno istantaneo Veleno Brigenerazione Tutte le pozioni Che figata Guarda che sto... Aia Aia C'è un'app di merda Che mi ha fatto finire in mezzo alle... Un paio di palle Bellissimo comunque Quindi tu hai fatto la faccia da 5 Beh adesso faccio la faccia da 5 anch'io Ma... Guarda ho veleno Forza Invisibile Eh, ho veleno Forza Rigenerazione Resistenza Resistenza al fuoco Respirazione Subacquea Ho praticamente tutto Ok Questo L'ho fatto da 5 Sì, l'ho fatto da 5 Quello basso centrale Esatto Basso centrale? Sì E' rotto Ma Ma cazzo Basso centrale Inception Ancora Scusa Priviamo il lato da 6 Perché non apriamo il lato da 6? Vuoi fare sempre il lato da 5 Per andare in ordine? Sì Quindi andiamo il lato da 5 Andiamo in quello centrale Rompi tu dai No In quello laterale basso Vai rompi tu Vai tu Rompi tu Che è successo? Ah, altre colonne Altre colonne Boh, vedi che è tutto uguale Più o meno Forse cambia solo Uno da un lato all'altro Tipo No Perché ti ricordo Che noi avevamo visto una volta Eh? Il cubo di Smeraldo Sì, di Smeraldo Ma prima di te è quello di carbone Solo che ha fatto il carbone Dove fare lo Smeraldo Se ti ricordi Ha fatto tante colonne Sì, ha fatto tante colonne E l'altro è Inception Di nuovo Cazzo Comunque Adesso abbiamo una cosa da aprire noi Più che i Shanks Cube Che è una cosa interessante Quelli che abbiamo trovato Nei Dungeon Nei vari Dungeon Che sono in realtà Solo due Che sono questo E questo Sono queste mele Sì Ti ricordi Livingham? Sì Però che hanno fortuna E non capisco Che cazzo di senso Abbiamo mettere fortuna Su queste cose Si chiedono Oh my god Don't do it E noi oggi lo facciamo Non sappiamo niente Non sappiamo cosa succede Quindi Siccome sicuramente qualcosa esplode Allora andiamo molto lontano Esatto Andiamo nel mondo di molto molto lontano Tipo andiamo Vieni con me No basta Qua e dai Sicuro? Ma sì Andiamo qua in mezzo alle montagne Grazie 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 Lì nega mi accende il fuoco Pronto Dove sei tu? Perché stai lontano Che bastardo Che stai lontano Vabbè Mi ferischerò Ma è pronto Vado Vado Che cazzo E' un albero gigante Quello di che troviamo lì dei cosi Ma io non vedo un cazzo Aspetta un attimo Come un albero Qua c'è un coso però Un blocco d'oro Io me lo prendo Ma E' un albero E' un albero E' l'albero Oddio Questo qua è quello che trovi In altra dimensione Ma scusa Vuoi dirmi che io Con questo posso E se ci mette L'albero Quello pieno di risorse E se non lo fa E se non lo fa Non lo so Ma prendili Ma che cazzo Quindi adesso Questo qua Leggendo un altro albero Esatto E perché c'è Come God don't do it Mica è brutto Scusa Vabbè lo faccio Attenzione Eccolo E' qua Sono chiuso dentro Scusa Ah ma è sempre Genna Sempre sti alberi Ma questi alberi Danno mele d'oro anche Come danno mele d'oro Danno anche mele d'oro Ma che cazzo Però li abbiamo finiti Oh my God don't do it Oh my God Ma si può craftare sta cosa? Si Mi sembra di si O no E' una cazzata Mela rossa E ricoperta di pietra rossa Scusa Craftiamoli Metti che dopo un po' Ci dà l'albero di risorse Quanti ne craftiamo? Quante cose abbiamo? Boh Ascolta Abbiamo tante mele E tanti pietra rossa Ora le crafto Un attimo Qua abbiamo otto mele Ma ne abbiamo anche Un po' abbastanza Mele cazzo Ci stiamo un attimo A prenderle E un sacco di blocchi Di pietra rossa Quindi andiamo qua così Tech Che al massimo Voglio dire Devi scavare qualcosa Se fai problemi Ok Oh my god Don't do it Uno Due Tre Quattro Però queste danno solo Fortuna due Fortuna due Cinque Sei Sto succedendo le mucche delle mele Così abbiamo le mele anche Cosa? Sto succedendo le mucche delle mele Ah così abbiamo le mele Ok perfetto Adesso vado a mettere le cose Insomma Aiuto Metoline carna fede Sono qua Carna Io non ti vedo Sono dietro di te Ok toh Uno Due Tre E quattro E io apro questi tre Pronto? Io metto uno qua Tu Tu Pollo Ok Dimmi che colco le risorse No vedo No è tutto legno Che Ma che cazzo Ma vaffanculo Vattene un po' Allora apro un altro Apro un altro Anzi apri tu adesso Vai Dove sei? Sono qua Ma perché ti perdo? Ma perché non sei Non presti attenzione Ecco ti vedo Ti vedo Vai aprilo Lo apro Si Va Va Vattene un po' via Aspetta Lo apro Vai Pronto? Si sto vicino così Sempre quello della mucca Questo è quello della mucca Aspetta 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 Guarda Ok cosa fai? Lo incendio Perché lo incendi? Vabbè Rinegan incendi agli alberi Tocca a me E adesso lo apro vicino a questa mucca da lamella d'oro E ta Ok Niente Albero normale Allora normale Vaffanculo Rompi 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 Sicuro che è normale? Si Ok tocca a te Vai Rinegan Ma quanti cazzo di Lo apro qui Cos'è sta cosa? Vai aprila Vaglia Soffitto proprio in mezzo Comunque è normale Mucca 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 Vedi che qua c'è una roba che vai sotto Andiamo lì Tu qua vai sotto Ah Non dite il cazzo di dungeon Vabbè Tocca a me Prima il dungeon Eh? Prima lo sotto Sotto il dungeon? Si Vabbè Non sai Sono Andiamo Quello sotto dungeon qua Sotto dungeon No qua c'è un dungeon Qui sotto Ok aspetta Facciamo delle scale Vabbè andiamo sotto Ma non asciamo le scale Scaviamo Ma perché? Perché mi lo puoi scavare Ok lo apro Aspetta Un dungeon diverso Come un dungeon diverso? Che è un dungeon diverso? Come tutti gli altri Dai Io apro Apro il coso Apro il coso Tough Ma che Non posso aprirlo Eh ma che schifo Forse solo sulla terra Funziona Vai via No Solo sulla terra Funziona Che Pussy Pronto? Vai Regan Distruggi questo villaggio Ecco No è sempre un albero normale Comunque mi sa che non Forse non ci dà Sai quello Comincia a perdere la speranza ragazzi Comunque non de mordo Continua ad aprire alberi Ancora uno dai E lo fai tu? Ma si dai Dai vai vai Dove lo faccio? Dove vuoi? Dove vuoi? Sopra l'albero Come sopra l'albero? Passo qui sopra Qui dell'albero Vabbè fallo sopra l'albero Aspetta un attimo Solo arrivarsi sopra Ma è sicuro che poi funziona? Non lo so 3 2 1 Io lo apro Bam Sull'albero non va Ok Questo mi ha dato un albero Normalissimo Ok E tu? Vai tu dai Niente Dove sei? Come niente? È niente Un albero normale anche per me Ma dove l'hai messo? Io non lo vedo Beh io pensavo che ci Che fosse qualcosa che esplodeva Cosa del genere Vabbè andiamo a uccidere l'ender dragon Che ne dici? Ma si Ci mettiamo un secondo tipo Ma se Da qui ci saranno Potremmo trovare il Esatto il coso Ragazzi troviamo il Il portale del cazzo lì E poi andiamo a uccidere il coso Allora ragazzi L'abbiamo trovato finalmente Quindi adesso Quando vuoi rinegano Oh scusa Ti ho buttato dentro Ma che cazzo Rientriamo Magari funziona Benissimo ragazzi Non si può entrare In land Mezz'ora che cerchiamo il coso Ce l'abbiamo fatta E non possiamo entrare Appena mi butto È già la terza volta che provo Quindi niente ragazzi Adesso Stiamo cercando Di creare un nuovo pacchetto mod Ciao a tutti E al prossimo video